Piteco IDM Intelligent Data Matching è un sofisticato tool dedicato all'analisi, validazione e al matching di dati complessi ed eterogenei. Piteco IDM avvia già nella fase di upload dei dati un'attività di semantic data analysis che facilita l'applicazione di algoritmi di machine learning e logiche di abbinamento parametriche per la riconciliazione di dati eterogenei. Piteco IDM mette a disposizione delle aziende funzionalità di cognitive computing per gestire l'operatività ad alta variabilità e tecniche di autoapprendimento attraverso algoritmi e procedure che consentono l'automazione di fasi ripetitive. Con la sua struttura modulare, Piteco IDM consente di implementare soluzioni verticali per la riconciliazione di dati eterogenei, garantendo l'automazione dei processi di abbinamento dati, l'eliminazione delle attività manuali e l'incremento delle performance operative. Piteco IDM trova applicazione in ogni settore di business e divisione aziendale per le attività di data matching che altrimenti richiederebbero significativi interventi manuali, per le aziende fornitrici di beni di largo consumo e la grande distribuzione, analisi e riconciliazione tra mandati di pagamento accumulativi e fatture, note di credito clienti con rilevazione a buoni, sconti e differenze. Per le compagnie assicurative, riconciliazione fogli di cassa, estratti contobroker e polizze dirette e online. Per il finance, riconciliazione incassi su prestiti personali, cessione del quinto, contratti di leasing e factoring. Riconciliazione delle transazioni su titoli, obbligazioni, depositi e forex. Per le utilities, gestore unico incassi, matching automatico di bonifici, bollettini, preventivi di allaccio e piani di rientro. Per l'e-commerce, analisi e riconciliazione di dati provenienti dal front-back-end ordini online, dati incassi con carte di credito, incassi da vettori e contrassegno. Grazie all'applicazione di algoritmi matematici, che consentono di trovare similitudini tra informazioni, Piteco IDM genera fino al 95% di abbinamenti automatici, può ridurre dell'80% i costi operativi e diminuisce sensibilmente i tempi di aggiornamento, garantendo flessibilità e un utilizzo più razionale di risorse e costi operativi. Grazie a tutti!